Buongiorno, oggi 23 del mese di giugno alle ore 10 dell'anno 2020 si è riunita la commissione preposta al sorteggio dei componenti, le commissioni concorsuali per la dirigenza medica. Sono qui con me Simonetta Pili, io sono Chiara Brambilla e Marco Sant'Ambrogio. Oggi andremo a sorteggiare i componenti titolari e supplenti dei seguenti concorsi pubblici per titoli d'esame banditi da questa azienda. Un posto di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione, tre posti di dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione ed urgenza e un posto di dirigente medico di anatomia patologica. Procediamo con i sorteggi. Iniziamo dall'anatomia patologica. L'anatomia patologica ha un elenco di 18 dirigenti medici per cui dovremmo andare a sorteggiare nell'elenco della regione Lombardia che ricomprende 18 dirigenti medici. Preliminarmente andiamo a controllare le palline. Allora decine, siccome il sorteggio è tra 18 unità abbiamo bisogno dello 0, 1 e basta. Per quanto riguarda le unità Abbiamo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 e 9. Bene, allora iniziamo con un componente titolare, un componente supplente del concorso pubblico per dirigente medico e disciplina di anatomia e istologia patologica. Decine Uno Uno Unità Nove 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 non c'è? Non c'è Per cui risorteggiamo l'unità Ok, 18 18 18 che mi corrisponde a Ungari Marco 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 Ungari Marco ASST Cremona Supplette 0 0 Unità 1 1 Che corrisponde a Bonoldi Emanuela Ospedale, grande ospedale metropolitano, mi guarda. Passiamo al sorteggio al secondo sorteggio dirigente medico medicina di chirurgia e accettazione d'urgenza. Abbiamo 20 nominativi nell'elenco regionale per cui dobbiamo aggiungerci il 2 nelle decine, quindi 0, 1 e 2. Per le unità abbiamo sempre 9. Titolare? 2. 4. Dobbiamo rifare perché i nominativi sono solo 20. Rifacciamo. Risorteggiamo. 1. 8. 18. Spaterna Raniero. Valtellina e Altolario. Supplente. 2. 2. Vediamo. 1. 1. Niente. Ripetiamo il sortello. 1. 1. 1. 11. 11 che corrisponde a Lualdi Emilio. A. S. S. T. Valle Olona. Procediamo con l'ultimo sorteggio relativo al concorso pubblico per titolo di l'esame per un posto di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione. L'elenco regionale è formato da 60 unità e quindi dobbiamo avere i numeri per le decine da 0 a 6. 0, 1, 2, 5, 3, 4, 5 e 6. Per l'unità sempre 9. titolare. Iniziamo con le decine. 5. 8. 58. Valoti Oliviero Francesco. Azienda SST Papa Giovanni XXIII. Bene. Componente supplente. 2. Decine. Unità. 28 che corrisponde Fabretti Fabrizio Le operazioni di sicuro-sorteggio sono concluse, buona giornata, grazie